Hanno scavato il tunnel nei giorni scorsi ed erano pronti ad agire, ma evidentemente non hanno fatto i conti con l'allarme che ha interrotto i loro intenti criminali. Banda del buco in azione a Giuliano, i malviventi hanno preso di mira la banca popolare di Novara di Corso Campano. Entrati dalle fogne, nelle vicinanze, probabilmente già da qualche giorno stavano scavando il tunnel che li conducesse sino all'istituto di credito e oggi doveva essere il giorno prescelto per il colpo. Il tunnel scavato li aveva condotti sino ad uno sgabuzzino proprio nel retro della banca. È lì che i balordi hanno scavato due buchi, uno che gli permetteva di uscire dalle fogne, l'altro invece nella parete che gli consentiva di entrare direttamente in banca. In quel momento però l'allarme è scattato e ha allertato il direttore che ha chiamato i carabinieri già in strada per un servizio di alto impatto. Giunti immediatamente sul posto, i militari della compagnia di Giuliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, hanno ritrovato anche alcuni attrezzi lasciati dalla banda, sui quali saranno effettuate analisi per cercare impronte utili a risalire ai malviventi. Residenti della zona hanno raccontato di aver sentito scattare l'allarme nei giorni scorsi nel pomeriggio, sempre allo stesso orario, probabilmente quando la banda iniziava a scavare, sul caso adesso sono scattate le indagini dei carabinieri. Grazie a tutti.